Se ne va parliamo un po' di politica. Cosa pensa del panorama politico regionale attualmente in Sicilia? Quasi quattro anni fa, subito dopo le elezioni regionali, venne ad intervistarmi una sua collega, che ha avuto anche fortuna perché è diventata parlamentare europeo, mi chiese cosa pensassi di Crocetta che era appena stato eletto. E io quattro anni fa dissi che pur riconoscendo a Crocetta le qualità di una persona assolutamente onesta e assolutamente pronta a ogni battaglia per la legalità contro la mafia e contro la corruzione, questo gli va riconosciuto, però mi permise di dire che questo non basta per essere un buon presidente perché ritenevo Crocetta fosse inadeguato a svolgere quel ruolo. Lo dissi sperando di sbagliarmi, purtroppo questi quattro anni ogni giorno hanno confermato che il mio giudizio, il mio pensiero non era lontano dal vero, nel senso che purtroppo ha dimostrato la sua inadeguatezza. Io sono convinto che ancora dopo quattro anni Crocetta non conosce il meccanismo della macchina regionale e non si governa una regione come la Sicilia senza conoscere la macchina, quelli che stanno alla guida, i dirigenti, le persone. Ecco questo. Poi purtroppo adesso posso aggiungere quello che allora non sapevo e che invece adesso è alla luce e sotto gli occhi di tutti, che Crocetta è lì quasi paravendo e parafulmine di chi invece sta governando questa regione. Crocetta crede di essere il presidente che governa e invece è un presidente che non governa perché il governo viene da altri che stanno fuori dalla giunta e che stanno lì invece a condizionare, a scegliere, a determinare, ad organizzare. E questo è ancora peggio perché purtroppo diventa ancora un problema più grosso per chi a questa regione ci crede, per chi è convinto che invece questa regione deve essere autonoma non soltanto nello statuto ma anche nella capacità di governare delle persone che sono state scelte dai cittadini. Questo è il panorama di adesso. Io credo che se ci fosse, e qualcuno ci sta già lavorando, la possibilità di rimettere insieme un'area moderata, quest'area moderata potrebbe nelle prossime elezioni tornare alla guida della Sicilia. E credo che sia l'unica possibilità perché non vincano i grillini. Io non sono in politica, mi fa piacere questa domanda perché mi consente di chiarire alcune battute che ho visto in giro. Quanto sceglierò di fare politica se lo sceglierò? Lo farò a viso aperto e lo farò lealmente. Ho avuto tante proposte di tornare in gambo e ho sempre detto che in questo momento ho fatto una scelta diversa che è quella di andare in Africa, di fare il medico volontario, parto domani. Nonostante l'interdizione? Vado in Africa, stiamo parlando della politica, intanto ho deciso di andare in Africa e ci vado. Quando tornerò, se la passione e la voglia di fare politica rimane ancora nel mio DNA, potrei tornare in politica ma non nelle cariche istituzionali. Io sono interdetto dal poter essere eletto e da poter eleggere e da poter votare, nel senso che sono interdetto dai pubblici uffici. Nessuno potrebbe vietarmi se scegliesse di farlo, di fare il dirigente di partito, ma io oggi non ho voglia di fare né il dirigente di partito né altro che non potrei fare. Però io non ho l'interdizione dal pensiero, né tantalmeno dal ragionamento. Ho continuato a pensare e credo che sia stata l'arma migliore che ho avuto per superare il carcere. E ho continuato a ragionare dopo il pensiero che mi ha aiutato ad affrontare un'esperienza drammatica come quella del carcere e a farla diventare addirittura fruttuosa e feconda. Lo sto continuando a fare adesso. Penso, ragione. Quando qualcuno mi chiede come sta facendo lei in questo momento cosa penso alla politica, dico onestamente quello che penso sapendo che a qualcuno questo non piacerà. Però sa, a me il carcere ha insegnato tante cose. Se c'è una cosa che mi ha insegnato e che continuo in qualche modo ad utilizzarla come insegnamento è quello di non essere ipocrita e di non mentire mai più. Io da politico ho mentito tanto perché la politica presupponeva anche dire tante bugie e so di essere stato a volte e tante volte anche ipocrita nel senso che sono stato accanto a chi non avrei voluto esserci o ho fatto delle cose che non mi sarebbe piaciuto fare. Adesso, nelle mie nuove condizioni di è che si è detenuto libero, non ho più bisogno e non voglio più essere né bugiardo né ipocrita. Quello che penso lo dico, anche se a qualcuno non farà piacere. Si ricorda una volta che ha mentito e che magari poi si è pentito di questa cosa? Beh sì, tante volte. In politica spesso si dicono tante cose perché c'è l'interesse elettorale, l'interesse nel fare le liste, l'interesse nel raggiungere gli obiettivi. Quindi è un gioco che purtroppo viene praticato soprattutto durante le campagne elettorali. Io adesso so di averlo fatto e forse anche meglio degli altri per aver avuto tanto successo, però se tornassi indietro certo questo non lo rifarei, ma non lo faccio adesso. Nel senso, quello che penso lo dico e il mio ragionamento lo è esplicito. Dice qualcuno, ma è il caso che non lo dicessi? Beh no, non per me. Adesso quello che voglio dire e che posso dire mi piace dirlo perché in carcere ho imparato che l'ipocrisia è una cosa che ti viene sgamata subito. Se tu in carcere sei ipocrita, dopo tre giorni i detenuti ti hanno sgamato, nel senso che da quel momento non sei più nei loro interessi e soprattutto non sei più rispettato. Ecco, io ho cercato di evitare l'ipocrisia, sono riuscito a farlo in carcere con persone che hanno una sensibilità e un'acutezza straordinaria e voglio continuare a farlo nella vita libera. Quindi dico quello che penso. A qualcuno non piace, pazienza. Sempre parlando di politica, poi magari tra poco ci spostiamo sulla sua esperienza in carcere. Lei immagino già vede un candidato all'orizzonte per la regione Sicilia? Beh guarda, qui dico una cosa che a qualcuno non piacerà, però io la penso e la dico. Può darsi che mi sbagli, non è che le cose che dico sono giuste, sono quelle che penso. Io penso che l'ultima elezione ci sono stati quattro candidati a cui i siciliani avrebbero dovuto affidare le loro aspettative, la loro fiducia. E sono Gianfranco Micicchè, Nello Musumeci, il Grillino Cancellieri e Crocetta. Bene, il 51% dei siciliani non si è riconosciuto in questi candidati perché ha scelto di non andare a votare. E se qualcuno pensa che questo 51% non ha votato perché ha protestato, dà una lettura superficiale di quelle elezioni. Quel 51% non ha votato perché è rimasto indifferente a quei candidati, non si è riconosciuto in quei candidati. Ci ha pensato che quei candidati non potessero rappresentare le proprie stanze ideali, le proprie stanze affettive. Non si sono fatti emozionare, dico io, di quei candidati. Ecco, io penso, e ha vinto Crocetta, che è quello che ha preso 450 mila voti, in fondo un quinto dei voti che abbiamo preso prima ieri a Lombardo. Quindi ecco, questo è successo. Allora, io dico, i dati elettorali vanno eletti. Se l'area moderata vuole tornare a vincere, e in Sicilia la gente è moderata, lo è stata per tanti anni, è necessario che selezioni un candidato che cominci a dare a quel 51% che non aveva candidato l'altra volta la possibilità adesso di averlo. E quindi è chiaro che deve essere un candidato nuovo, non può essere di quei quattro. Perché se quel 51% avesse voluto votare uno di quei quattro, l'avrebbe già fatto l'altra volta. Non l'ha fatto perché non si è riconosciuto. Adesso c'è un candidato nuovo, che sia un candidato spendibile, credibile, pulito, onesto, moderato, una persona per bene, che sappia parlare con i partiti e con la società civile, e a cui affidare la possibilità di rimettere insieme l'area moderata siciliana. Io credo che questo sia il candidato che possa vincere, se così non succede vincerà la protesta. E oggi la protesta viene incarnata dai grillini, che sono delle persone per bene, voglio dirlo subito, ma anche gli altri quattro candidati che non hanno vinto sono persone per bene. Io penso che Nello Musumeci sia una persona straordinariamente per bene, una grande persona, umanamente. Però la gente non ha riconosciuto in un candidato probabilmente troppo di destra la possibilità di affidare le proprie istanze ideali. Adesso, se vogliamo tornare a vincere, sarà indispensabile che Nello Musumeci stia in questa aggregazione assieme agli altri, con un ruolo di vertice e una capacità diversa. Però è necessario che quello che dovremo scegliere per dare ai siciliani la possibilità di riconoscersi deve essere una persona diversa, che io in questo momento non ho, ma che va cercata tutti insieme. Quindi non la immagina? Beh, io la immagino, però me la tengo per me. Quindi non ce la dici, è esclusiva magari. Se viene detta una cosa di questa in una televisione, non è più, diventerà di opinione pubblica e farei del torto a questa persona, che invece io credo, se con il ragionamento di tutti e con la scelta di tutte, se ci potesse arrivare, sarebbe una cosa buona. Grazie a tutti.